Non è che siamo proprio rovinati, rovinati, eh, sull'ollo del bar, però è un momento difficile. Dammeretta, quello è la salvezza tua. Sarà una manna dal cielo. No, eravamo gli ultimi. Gli unici. Gli unici. Gli ultimi. Di più, una valanga di money. Ecco, quando uno partorisce nell'aria, il bambino viene fuori e piange. Ma su attacqua cosa fa? Ha le bolle? Non mi ricordo, ero troppo piccola. Io non capisco quello che ha detto lei da un punto di vista prettamente tecnico. Adriano! Mi fido di lei. Vinco io, ho un corpo pazzesco. Con questo concentrato di sfigati. Capiterà anche a te quando sarei più grande. Ti saluto. Oh. Volta si è infilato in gravi guai. È al centro di un'indagine per fondi europei che non si capisce. C'è una parte di finanza. Cosa? Eh, ma che? È ricattato da un commercialista che non si capisce e ha fatto una partita poker che è finita male, che non si capisce e non ho capito. Hai capito tu? No. Neanch'io. Non si capisce e non si capisce e non si capisce e non si capisce. Grazie.